Siamo a martedì 2 di aprile, sta sorgendo il sole in questo nuovo giorno, è un regalo che il Signore ci dà nelle mani, questa giornata, così, come sarà? Non lo so, sorge il sole, vogliamo far sorgere il sole anche durante la nostra giornata? Sì, il bellissimo sole dell'amore, il sole della fede, il sole della pazienza, il sole del lavoro, il sole della priera, il sole dell'amore verso gli altri, oh che bellissima giornata sarà, tra poco viene su il sole, è bello che la nostra giornata sia illuminata dalla fede, ciao a tutti, buona giornata, un bellissimo Padre Nostro, tutti, subito, ciao.